La Corte Civica è un movimento composto da tante associazioni che già operavano nel campo dell'antimafia e tanti liberi cittadini che è nato a gennaio del 2014 per sostenere l'azione dei magistrati e cercare di dare una protezione tipo simbolico ai magistrati minacciati dalla mafia. Noi siamo qui da 633 giorni per cercare di far uscire dal torpore le istituzioni che sono assolutamente sorde alle minacce che sono state rivolte a questi magistrati e soprattutto a quelli che sono impegnati nel processo in corso sulla trattativa fra lo Stato e la mafia. Noi chiediamo con forza che venga trovato l'arsenale della mafia. Nell'arsenale sappiamo, perché ce lo dicono cinque collaboratori di giustizia, che custodisce il tritolo che era destinato a Di Matteo. I mafiosi devono essere arrestati, l'arsenale, il tritolo deve essere trovato. Palermo, l'Italia non può rivivere una stagione di stragi. Bisogna proteggere i magistrati da vivi e non celebrarli da morti. In quanto facente parte di scorta civica, io non voglio che vi siano più delle stragi che mettono in rischio la vita dei magistrati che si occupano del processo trattativa Stato-mafia. E soprattutto vorrei che latitanti come Matteo Messina Denaro e tutti coloro i quali eguagliano il potere mafioso da lui costituito vengano presi e vuoti nel sacco, cioè facciano finalmente capire dove sono i nervi scoperti dei collegamenti fra le mafie, fra i poteri economici affinché finalmente il popolo siciliano onesto possa togliersi lo stigma di essere mafioso in terra italiana e soprattutto all'estero.